Salve! Oggi diamo il primo trattamento al Cereseti. Come atomizzatore usiamo un atomizzatore portato da 6 quintali e viene dato principalmente un fungicida. Allora, il primo trattamento nei Cereseti viene dato quando la gemma inizia a schiudersi, inizia ad apriersi. I primi trattamenti dell'anno rispetto a quelli che si andranno a fare più avanti, quindi con già la foglia formata, sono molto più veloci, molto più rapidi, con meno dispensio idrico. A punto che non c'è la foglia, i primi trattamenti, quindi si andrà a tenere una velocità più alta. Adesso partiamo, testiamo un po' le velocità e guardiamo che la pianta venga bagnata in modo uniforme e completamente. Ok, spero di esservi stato utile. Ci vediamo nel prossimo video, vado avanti perché non penso più. Ciao! Ciao!